La loro musica è una miscela di rock, reggae, dub, canzoni napoletane. È il gruppo più premiato in assoluto. Gli Alma Megretta suonano sul palco allestito di Fiera Bari, tappa del tour Sanacore Dub Live. A quasi 25 anni dalla nascita del gruppo e a 20 dallo storico album Sanacore del 95, registrato a Procida e mixato a Londra negli studi del maestro del dub Adrian Scherner. Abbiamo cominciato 20 anni fa ed eravamo come se fossimo i portatori di altre culture in Italia. Ecco, come se fossimo noi dei migranti anti-litteram. Insomma, in qualche modo facevamo noi la parte dei migranti. Quindi ci siamo divertiti a mescolare alla musica napoletana, al reggae, anche delle cose africane. Sul palco il gruppo storico, cominciai da Gennaro della Volpe, in arte, raiz, voce della band, e poi Pablo alle tastiere, Gennaro Tesone alla batteria, Fefo Forconi alla chitarra, Mario Formisano al basso e Salvatore Zanella alle percussioni. Tra i fans c'è grande attesa per l'uscita del nuovo album. Penso già l'estate prossima saremo pronti. Sarà un disco del nostro stile. Tra i fans c'è grande attesa per l'uscita.